Alle volte si creano inestricabili intrecci burocratici che possono complicare non da poco la vita delle persone. Nel caso di attività commerciali, poi quando questi cortocircuiti si innescano senza riuscire ad individuare dov'è che si deve agire per risolvere il problema, il tutto diventa anche frustrante. Un caso emblematico di queste matasse inestricabili è quello di un ristoratore della zona che da anni altro non chiede che poter smaltire correttamente i rifiuti della sua attività. Niente di più facile, si potrebbe pensare di fronte ad una richiesta di questo genere ed in presenza di un onesto operatore che non chiede altro che fare il proprio dovere di bravo cittadino, tutto dovrebbe viaggiare alla velocità della luce, cassonetti adeguati, isola ecologica, risposte rapide in men che non si dica. Ahimè invece nulla di tutto ciò. Nella fattispecie lo sconsolato ristoratore deve confidare a fine giornata lavorativa nella buona volontà dei suoi dipendenti che si fanno carico dello smaltimento pur pagando correttamente le tasse per avere un servizio che in realtà non riceve. Noi stiamo chiedendo alle istituzioni la possibilità di poter buttare regolarmente con tranquillità la plastica e l'alluminio, visto che è due anni che i miei dipendenti devono portarsi a casa borse di plastica e d'alluminio perché il comune non ci fornisce il servizio di bidoni dove poter buttare tranquillamente l'immondizia sia di plastica che di alluminio. Parliamo di quantità importanti perché soprattutto la latta per voi è importante? Sia la latta che la plastica ogni volta dobbiamo caricarcele in macchina, portarle a casa e distribuirle, cioè è una cosa veramente sta diventando insopportabile, le istituzioni si rimpallano la responsabilità, l'ASET è colpa del comune, il comune è colpa dell'ASET ma alla fine chi ci rimette siamo noi che non abbiamo questo disservizio. In comune sei stato, hai chiesto, hai parlato con l'ufficio ambiente ma la risposta è stata? Sì, ho parlato tra quattro volte con le responsabili dell'ufficio ambiente, mi confermano che abbiamo ragione ma si trovano nelle impossibilità di darci questi bidoni e non riesco a capire se è una questione economica, non riesco a capire qual è il problema e fra l'altro bisogna aver capito che il problema è per noi ma anche per altri ristoranti, è lo stesso e secondo me è inaccettabile. Quindi chiedete che si risolva, che si mettano d'accordo tra di loro? Esatto, la ricchezza nostra è che si trovi un compromesso tra le parti per poter fare per noi il nostro meglio perché è veramente inaccettabile che ogni sera le ragazze vanno a casa con il loro sacchetto di plastica alluminio e la portano a casa e la distribuiscono poi nel privato, cioè è una cosa veramente inaccettabile secondo me.